musica 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 eee bello a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video io sono andrea2784 e oggi siamo veduti questo nuovissimo video di minecraft oggi andremo oggi andremo a fare le bad wars su questo server eee niente direi subito di partire bene ragazzi siamo in partita eee ci ha voluto un po' perchè diciamo laggava anche quindi vabbè comunque adesso ci ha risolto siamo in partita eee niente adesso andiamo subito a prenderci gli amanti penso che tutti quanti sapete come funzionano le bad wars che sono un po' come le head wars tanto che qua sono più belle diciamo più elaborate anche proprio come quello sugli i pixel e visto che come sapete io non sono premium eeeh mi fa veramente piacere giocare le bad wars come quello sugli i pixel adesso facciamo così se no ho paura che qualcuno mettere tutti quanti i diamanti e niente continuiamo a fare il ponte ok abbiamo finito perfetto a quanto pare i nostri ehm coinquidini di quelle mezze cartucce non hanno ancora fatto niente perfetto 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 grandi ragazzi allora vediamo un po' il genio non ne ha ancora fatto il ponte qua quindi è molto 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 buono il mio compagno si è dimenticato accidentalmente di prendere questi diamanti cosa che per lui gli sarà fatale e niente io direi subito di di prenderci un bel po' di roba allora vediamo un po' che ho utilizzato no però mi ha scambiato allora andiamo qua vediamo ok ho i diamanti giusti per per potenziare il generatore qua di di ferro di oro e niente io direi subito intanto questo è il villager pagato fantastica questa cosa qua i miei compagni l'hanno protetto veramente da schifo il letto e ragazzi adesso potenzieremo anche il generatore con otto diamanti perfetto adesso dovrebbero uscire esatto anche gli smeraldi e sicuramente non rimetterò dentro le stesse quella questa qua che la possono prendere più nella ender chest anche perché così se magari mi servono e devo prendermi una spada al volo posso prendermela abbastanza velocemente insomma insomma posso prendermela mi accompagno a quanto pare se non ti arrasciare dai da questi quindi dai verdi i verdi sono in base io piano piano vado qua e mi shift non ci sono riuscito ragazzi va bene questa parte qua la taglio questa parte qua la taglio anzi niente non la taglio neanche ma comunque ragazzi ci rivediamo dopo quando mi sono rifatto tutto ragazzi adesso sto andando da questo che prima mi ha ucciso adesso ci ucciderò io schifo pezzi di schifo uuuu poche di smeraldi ragazzi torniamo subito a casa assolutamente adesso vi vado a distruggere l'uomo anche gli altri non mi interessa niente adesso sono fattivo adesso sono molto fattivo sono veramente veramente fattivo no è euforico no fattivo fattivo ok adesso diventerò fattivo perfetto ci vado da sopra dai verdi vado i verdi da sopra vado da sopra e gli uccido vado da sopra gli uccido tutti stanno zitti vabbè mi puoi anche uccidere ma tanto il letto è andato giù ragazzi dai andiamo a uccidere questi sono affascinato dalla mia stupidità cioè ma proprio io sono affascinato ragazzi adesso ci rifacciamo però mi devo riprendere un po' di roba vabbè però dai oh no cavolo 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 oh no perfetto adesso posso fare l'armatura ancheerek cavolo l'uPP cavolo cavolo non sono io il rosso ma non servere invece di distruttare allora qua ci hanno distrutto tutto yeh che bello ci hanno distrutto tutto sono felice come un idiota yeh l'unico che non sono stato io a distruggerla è stato l'azzurro dopo ho distrutto i gialli e anche i verdi ho distrutto i gialli ho distrutto i gialli non si può fare niente bene non si può fare niente non si può fare niente via 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 ti piace la tv via ah avete visto che forte che è che è Activia anzi faccio un regalo aspetti io voglio fare un bellissimo troll se qualcuno vuole fare troll con me qua su su Minecraft mi può fare e io accetterei molto uuuu che bello si lo so si lo so che bello si si ma lo so che problemi ha lei eeeh yes amico mio potenza schifo ah ah che fortuna aiuto devo prendere la fortuna guarda eeeh come? tutto di oro com'è? oh mierda mierda anch'io piccone 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 ah 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 Iuto, 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 Iuto! Iuto, 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 Iuto! Spettacolo! Caccio! No, non basta! Mi siarve, siarve più roba, siarve più roba! Siarve, siarve più roba! Sì! 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 la torre aiutoooooo nyaa non si vede in mancare devi capirlo oh mio dio che cazzo fai te cosa faii? anche quello si ti basta che adesso che fa qualcosa ci ha bloccato tutto ragazzi regaaaaaaaaaa no aiuto 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 mamma dai allora ti prego fammi entrare ti prego fammi entrare aiuto aiuto figli avanti entri non lo voglio nooo son qua sa qua non riesci a metterlo Ah vieni che non stai mortare toma va bene ragazzi comunque se il video vi è piaciuto commentate, condividete e al prossimo domenico andrà a destino 24 ciao 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 ragazzi